Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video di Genshin Impact ultimamente ragazzi continuate a vedere video di My Hero Academia ovviamente ci dispiace nel senso che comunque stiamo vedendo un altissimo riscontro verso questo videogioco quindi insomma abbiate pazienza, comunque video di Genshin Impact continueranno semplicemente butteremo addosso un sacco di video di My Hero Academia perché a parte che ci stiamo diventando un botto ma la community sta impazzendo tra l'altro ringraziamo tutti coloro che hanno aderito ovviamente all'iniziativa My Hero Academia comunque ragazzi Genshin Impact, oggi vi volevo parlare di un video un po' particolare nel senso che volevo fare una sorta di riassunto di tutte le varie patch ed effettivamente volevo anche andare a fare un'analisi su dove effettivamente Genshin Impact si sta dirigendo dopo tutte queste patch, che cosa sta facendo, dove sta arrivando Facendo un breve recap di tutte le patch, ovviamente noi abbiamo iniziato il gioco dal day one quindi con l'uscita di Genshin Impact 1.0 ovviamente lì il gioco era al massimo splendore, ci siamo ritrovati a livello di zone esplorabili più o meno tutto ciò che abbiamo adesso a parte Dragon's Pine e qualche piccola porzione di regione dove sono presenti nuovi boss come Azdala, comunque veramente piccolissimi pezzi e poi ovviamente ci siamo ritrovati molti più personaggi alla fine sinceramente le cose non è che siano cambiate così tanto rispetto alla patch 1.0 mi aspettavo sicuramente un cambiamento nettamente maggiore ma perché ragazzi se fossero già un 50% del gioco totale invece comunque tutte le aree che attualmente non sono esplorabili 99% ancora non esistono comprese Nazuma che stanno lavorando ma non penso che usciranno le patch proprio ultra successive magari tra 2-3 patch non si sa, tanti effettivamente pensano e sicuramente sarà così che sarà verso settembre o comunque dopo le vacanze ma ovviamente non si può andare a ragionare più di tanto su questo comunque la prima patch ragazzi perché effettivamente non l'avesse vissuta è stata la patch più bella in assoluto con il banner di 20 e col banner di Klee banner tra l'altro stupendi all'epoca e ovviamente un'intera zona da esplorare insomma perché effettivamente è partito da zero noi abbiamo cominciato così al day one ed è stato stupendo cioè gioco che comunque è tuttora stupendo e che tuttavia non presenta più effettivamente le emozioni e l'esploratività che c'era ovviamente con la patch 1.0 attualmente non è che abbiano effettivamente implementato così tanto ma con la patch 1.1 che cosa è successo? con la patch 1.1 non è successo praticamente niente nel senso che hanno annunciato i nuovi banner che sarebbero poi usciti quindi ci siamo ritrovati nella patch 1.1 il buon Zhongli e il buon Tartaglia due personaggi che ai tempi, madonna mia, avevamo fatto un sacco di video due personaggi grandiosi tra l'altro era l'epoca in cui Zhongli veniva tantissimo insultato proprio perché non era ancora riconosciuto come support bensì come main DPS e ovviamente allora senza tutti i buff della 1.3 non funzionava e quindi il periodo proprio degli insulti totali su Zhongli personaggio orribile, personaggio che va buttato eccetera questa patch diciamo che si è presentata un po' così anch'essa come patch totalmente transitoria con i piccoli eventi che caratterizzano tutte le patch che stiamo vivendo adesso ma ai tempi giustamente era una cosa diversa nel senso che era appena uscito il gioco non ci aspettavamo che nella patch subito dopo effettivamente ci mostrassero altre aree del gioco insomma ci si hanno dato il buon Child come boss da battere ci hanno già dato qualcosa, eravamo parecchio soddisfatti comunque però già, però ragazzi, ragazzi la patch successiva, la patch 1.2 fu ovviamente la patch fantastica con l'uscita di Dragon Spine ci hanno lasciato un sacco di nuova aree esplorabile tra l'altro Dragon Spine è una delle aree che più adoro per come è stata realizzata a livello tecnico, a livello visivo è veramente pazzesca ragazzi tra l'altro se non vi siete visti il video su come è stato realizzato Genshin Impact è andato a vedere perché è veramente affascinante comunque con questa patch hanno implementato tanto hanno implementato tanto a livello di personaggi in quanto comunque sono usciti Albedo e ovviamente la bellissima Ganyu quindi fantastico cioè è stata forse il periodo più bello a livello di banner perché Ganyu ovviamente io l'adoro e buon Albedo comunque alla fine si è presentato abbastanza bene anche se mi ricordo ancora che era il periodo in cui si insultava per via dell'ascensore era l'ascensore umano tutt'oggi è rimasto tale però con tutti i buff che hanno applicato a Igeo questo personaggio poi è stato rivalutato parecchio quindi però ragazzi bella patch cioè io me la ricordo eravamo tutti Strain Hype a vedere la live a vedere effettivamente tutto ciò che avevano messo di nuovo relativo a Dragon Spine alle aree nuovi personaggi da battere insomma tutto nuovo tutto bello nuovi personaggi figata pazzesca quindi lì hanno forse esagerato nel senso che potevano puntare molto di più sull'area non andando a mettere nuovi personaggi 5 stelle e invece hanno voluto comunque andare a mettere nuovi personaggi e nuova area e tutto ciò ovviamente ci ha portato poi alle patch successive che insomma ragazzi non sono stati effettivamente quella gioia che ci ha regalato la bellissima Dragon Spine già dalla patch 1.3 vabbè non ci aspettavamo niente di che non ci aspettavamo di certo l'implementazione di una nuova regione non ci aspettavamo moltissimo avevamo già calcolato che sarebbe stata al 100% un'altra patch transitoria e così è stato con il festival della città di Liyue comunque molto belli visivamente degli eventi che hanno messo abbastanza carini mi ricordo quello del Tower Defense insomma qualcosa di interessante l'avevano perfettamente implementato e comunque ci hanno preso del bel tempo ci siamo divertiti con quegli eventi e ci hanno lavorato tanto si vede tra l'altro sono usciti nuovi personaggi Xiao poi hanno messo Keqing e hanno messo poi Hu Tao quindi comunque nuovi personaggi nuove cose interessanti da fare questa patch comunque nel suo essere comunque una patch transitoria era totalmente accettabile però ragazzi questo ci ha portato logicamente alla patch 1.4 la parte più bella era quella di Liyue dove ci siamo parecchio divertiti e quella di Mondstadt non è stata effettivamente fantastica cioè gli eventi erano piuttosto blandi e non mi sono divertito così tanto praticamente io me la sono dimenticata a livelli di eventi nel senso che c'era qualcosa di carino c'erano i domain insomma c'era tutta una serie di cose di piccoli eventi ma niente di che a livello di personaggi non hanno implementato nulla di così allucinante cioè hanno fatto la rerun di 20 e di Child e hanno inserito Rosaria Rosaria era l'unico personaggio nuovo che hanno inserito e non hanno inserito nient'altro gli eventi non mi sono particolarmente piaciuti insomma non è di certo stata una rivoluzione questa patch diciamocelo non ha sicuramente implementato un qualcosa di particolarmente soddisfacente e già ovviamente eravamo alla seconda patch dove di fatto non vedevamo nulla di veramente nuovo concreto realizzato arrivati alla patch 1.5 la nostra bellissima patch quella che stiamo vivendo adesso come sapete anche qui composta da eventi nessuna nuova regione come nuovi personaggi nella patch 1.5 lo sapete meglio di me hanno fatto la rerun di Zhongli e hanno inserito il personaggio di Yula recentemente quindi una patch dove comunque hanno inserito Yanfei Yula qualche nuovo personaggio l'hanno messo nuova regione 0 ma ragazzi gli eventi cioè per me hanno raggiunto un livello che nelle altre patch non c'era cioè c'era proprio cioè si vedeva un totale cioè quasi disinteresse verso questi eventi il Wind Trace l'evento relativo appunto al nascondino era terrificante si può pensare che effettivamente fosse divertente magari qualcuno si è anche divertito ma tecnicamente era terrificante cioè tu ti trasformavi in un qualcosa senza neanche un effetto niente cioè io quando l'ho visto nei trailer ho detto vabbè ok questo è l'evento spero che lo migliorino almeno visivamente parlando invece 0 cioè proprio 0 adesso hanno messo l'evento appunto con i vari domain carino ma sinceramente dopo averne fatto uno io già mi sono rotto abbastanza le balle quindi dove stiamo arrivando effettivamente se vedete con l'ultima patch veramente Genshin si è fermato questo logicamente proprio perché saranno sicuramente occupati nella realizzazione di Inazuma e ci fanno ben sperare visto che comunque già i concept almeno sono usciti però ragazzi dove ci stiamo dirigendo con questo gioco cioè dalla patch di Dragon Spine quindi stiamo parlando della patch 1.2 io ho iniziato a giocare semplicemente loggando facendo i due eventini eccetera eccetera utilizzando le resine a disposizione facendo le daily e basta cioè è diventato ta 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 gaccia dove non c'è più niente da fare e fino a quando non c'è Inazuma sarà così non parlo ai nuovi che sono arrivati che comunque hanno tantissimo ancora da fare tantissimo su cui divertirsi ma io parlo effettivamente delle persone che sono come me a giocare dal day one e che per il 90% si sono rotti le balle e hanno tanti tanti mollato il gioco e siamo arrivati al punto in cui veramente il gioco è diventato un gaccia ripetitivo dove semplicemente tu sei forzato a sprecare le resine a fare le daily e logicamente stiamo dirigendoci verso quella direzione e fino a quando non uscirà Inazuma in tanti penso che questo gioco lo abbandoneranno non ho capito il perché di questa scelta di Mioio sta mandando tante belle notizie sta effettivamente dando tanto hype sotto tanti punti di vista ma è da troppe pace che il gioco è fermo cioè è da mesi che il gioco è fermo ed è troppo cioè siamo effettivamente arrivati a un picco con la 1.2 estremo secondo me perché è veramente bellissimo stupendo perché con la 1.0 ci hanno rifilato il gioco completo con la 1.2 un nuovo pezzo di regione fighissima e poi basta forse si sono organizzati male perché comunque dovevano riuscire a spalmare meglio questi tempi che non è possibile che effettivamente porti il giocatore per mesi mesi e mesi a fare la solita routine quotidiana ditemi voi effettivamente che cosa ne pensate e per quelli che effettivamente hanno iniziato a giocare dopo cosa ne pensano effettivamente di questa storia la storia effettiva di Genshin Impact dalla patch 1.0 alla patch 1.5 ciao amici Genshin Impact Genshin Impact